Il fischio del direttore di gara Arriva in questo momento, parte il destro di Molfetta Il pallone in mezzo, esce Zanellati, la devia Guidetti! Non ti faccio credere! 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 La ralla, raccoglie il pallone Che rimane lì dopo un'uscita maldestra di Zanellati La scarletta in reddito è un po' scaduto Non ci credo! Non ci credo! Che trovano tre punti pesantissimi Proprio quando nessuno si credeva più Ma non noi, perché noi non vogliamo mai Ci crediamo sempre più dall'ultimo Questa è la dimostrazione Un punto a Trieste, tre punti oggi Tutti ad ultimo secondo Non vogliamo mai! Che squadra! Che partita ragazzi! Mai, mai!